Siamo nel 56. Come sapete il protagonista del film è Egno, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano. Ma perché in Italia c'erano i comunisti? Certo! I comunisti non vivevano solo in Russia. Azione! Voglio lasciare Giovanni ma non ne sono capace, non ci riesco. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro, di tutto tranne che di noi due. Tua madre produce il film di un altro regista. La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci? Credo che si sia fidanzata. Emma ti ha detto almeno come si chiama, non aspettiamo suo figlio? Non ho figli. Giovanni stare con te è diventato sempre più difficile. Ma io sono così faticoso come dice mamma? Beh insomma diciamo che con te uno ha sempre la sensazione di camminare su una corda tesa. FING! 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 Musica! Ti amo Martin Scorsese. No. Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica. Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. Notre rendezvous est confirmé chez Netflix. In questo film manca un momento WTF. What the fuck? What the fuck? essoessa. als Vai?